Passiamo adesso al nostro ospite successivo, al professor Camillo Brezzi, che è direttore scientifico della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale Onlus Pieve Santo Stefano, che è accompagnato da Natalia Gangi, da Lisa Marri e da Loretta Veri, che svolgono ognuna di loro un compito specifico all'interno della Fondazione. Prego. Grazie e grazie dell'invito. Dico subito, l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano è nato da un'idea, da un'intuizione, da un suggerimento di Saverio Tutino. Saverio Tutino, giovane, diciottenne, fece il partigiano in Bad Aosta e nel Canavese, poi nel dopoguerra incominciò a fare il giornalista, anzi il corrispondente, dalla Cina, dalla Francia, dall'Algeria e poi a Cuba. Si deve a Saverio Tutino se gli italiani hanno conosciuto la rivoluzione cubana di Fidel Castro, la figura di Che Guevara, e questo dapprima sull'unità e poi dalla Fondazione di Repubblica. Collaborò anche a un mensile che forse pochi ricordano, che era Linus, dove accanto ai Penuz c'erano anche delle rubriche e quindi Saverio è un'eterni uno. Nel 1995 pubblicò L'occhio del Barracuda, una sua autobiografia, dove utilizzava anche dei pezzi del suo diario. Anche quando era partigiano, almeno una paginetta di un block notice la sera lui la scriveva, poi le nascondeva perché ovviamente potevano essere pericolosi. Negli anni Ottanta Saverio Tutino viene a vivere almeno metà dell'anno in Valtiberina, ad Anghiari, e gira quelle zone, la valle di Piero della Francesca, tanto per far capire. E lì a Pieve Santo Stefano, un piccolo paese che fino allora era famoso solo per aver dato i Natali nel 1908 ad Amintore Fanfani, lancia questa idea di raccogliere i diari, i diari della gente comune, quelli che svolgono la cosiddetta vita normale, non i grandi personaggi. L'intento era quello, lo ha scritto proprio Tutino nel 90, di favorire la rivitalizzazione della memoria, come una manifestazione culturale a sé, prima ancora che come fonte di utilizzazione scientifica. Nasce quindi l'archivio che a tutt'oggi è un unicum nel nostro paese, ma è diventato anche un modello per diversi paesi europei. Oggi, a distanza di 33 anni dalla fondazione, sono più di 7500 diari, esattamente il doppio degli abitanti di Pieve Santo Stefano. Questo risultato è stato possibile perché da una prima fase, caratterizzata dall'entusiasmo di ragazze e ragazzi, misto a forme di volontariato, perché tutt'ora ci sono larghi strati di volontariato. Non apro il discorso archivio e finanziamenti che ci porterebbe lontano. Ma l'archivio ha poi compiuto negli anni successivi un vero salto di qualità, investendo su quel personale che inizialmente appunto svolgeva un'attività di volontariato, attraverso progetti di ricerca, attraverso il fundraising e se avremo modo lo vedremo in seguito. Sapere Tutino, accanto all'archivio, costituì anche un premio che si tiene tutt'ora, il premio Pieve Santo Stefano, adesso dedicato a lui, nel mese di settembre, nella piazza di Pieve. La prima edizione ci fu appunto nel 1985 e vinse una bidella bolognese, Antonella Federici per la precisione. Oggi le giornate del premio sono un vero festival della memoria, perché l'aspetto più interessante forse, o uno degli aspetti più di interesse, è il legame che si stabilisce fra l'archivio e i diaristi. Non termina nel momento in cui il diarista consegna il diario suo o dei genitori, dei nonni, ma perdura questo rapporto, si partecipa ai premi Pieve successivi a quello in cui il diario ha partecipato al concorso. Insomma, è un continuo, oggi poi con le mail, molto più facile questi collegamenti. L'archivio eteristico non è quindi solo un luogo dove la memoria è conservata. È il posto in cui i ricordi, le narrazioni di sé, parlano agli altri. Un monumento nazionale della memoria, che accoglie studiosi e curiosi da tutto il mondo. Un vivaio, diceva Saverio Tutino, che non è qualcosa di statico, dove i diari possono prendere la forma di libri, di documentari, di film, di spettacoli teatrali. Alcuni di questi diari poi sono diventati dei diari simbolo, ma certamente non abbiamo il tempo per analizzarli. Penso al lenzuolo di Clelia Marchi, penso alla biografia di Margherita Iannelli, nativa di Marzabotto e che racconta una specie di secolo del Novecento, delle sue attività e anche dell'episodio molto drammatico di Marzabotto che, ahimè, in questi giorni è ritornato sulle pagine dei giornali. O i foglietti di Orlando Orlando Posti, un ragazzo di Roma che viene arrestato durante l'occupazione dei tedeschi, portato a Via Tasso, verrà ucciso alle fosse ardentine e in quei mesi che sta a Via Tasso riesce a mandare, attraverso il colletto della camicia che i tedeschi consegnavano ai familiari perché le lavassero e poi ritornassero, dei fogliettini in cui parla con la mamma, racconta un po' anche le sue prospettive future e con l'amata Marcella, una specie di amore non molto condiviso, devo dire, corrisposto, condiviso poi in quel pochino non era possibile. E questi foglietti poi furono trovati dalla madre, sono rimasti lì e sarebbe tutto un altro racconto di come sono arrivati all'archivio, ma l'emozione di questi foglietti è tanta. Bene, sono passati quasi 30 anni da quando l'archivio era nato e i mutamenti della nostra società erano tantissimi. La più importante è certamente la rivoluzione informatica. Ecco, l'archivio ha voluto restare al passo quei tempi e quindi si è cercato di utilizzare queste innovazioni e si sono compiuti dei progressi notevoli con un progetto, Impronte Digitali, nel quale si poneva l'obiettivo di digitalizzare il nostro patrimonio, in modo da renderlo fruibile e consultabile da parte di un pubblico sempre più ampio. Questo progetto Impronte Digitale, che fu avviato nel marzo del 2011 con la collaborazione della Fondazione Team Italia, della Regione Toscana, del MIBACT e della Scuola Normale di Pisa, ha fatto sì che l'archivio abbia digitalizzato quasi 7.000 unità archivistiche, quasi il completo patrimonio attuale. Quello in quel momento del progetto l'abbiamo digitalizzato tutto. Parlo di unità archivistiche, permetto questa precisazione perché ovviamente ogni diario, memoria, epistolario conta per uno ma è composto, sì, qualche volta da 20 pagine, ma anche dalle 1050 di Vincenzo Rabitto scritte a passo zero, senza margini, con Olivetti 22. Ecco, gli obiettivi raggiunti quali sono stati? La digitalizzazione del fondo documentario inedito, la creazione di una digital library che a partire dal prossimo anno verrà messa online per consentire la fruizione da parte di studiosi, ricercatori, laureandi e curiosi. La realizzazione di piattaforme informatiche in serie, collegate alla digital library, monotematiche e di più immediato accesso per una divulgazione di massa. La prima è stata nel 2014, quella sulla Grande Guerra, in occasione del centenario. E infine la progettazione e la realizzazione di un percorso museale, multimediale ed esperienziale intitolato Piccolo Museo del Diario. Brevemente, l'acquisizione digitale di buona parte del fondo archivistico ha permesso di abbattere i rischi connessi alla consultazione, pur vincolata a rigorosi protocolli di fruizione di manoscritti autografi. Tali testi, quelli specialmente redatti a mano dagli autori, rappresentano infatti la parte più esposta al deterioramento del patrimonio dell'archivio, che è interamente inserito nel Codice dei beni culturali dello Stato. L'acquisizione degli originali in formato elettronico ha offerto inoltre il vantaggio di rendere possibile immediata la visione dei testi manoscritti da parte dei ricercatori interessati ad analisi grafiche, approfondimenti di carattere psicologico sulle modalità di scrittura e così via. L'accesso degli utenti al patrimonio digitalizzato dell'archivio all'interno della Digital Library avverrà con privilegi di accesso personali e diversificati che garantiranno lo stesso grado di protezione e riservatezza che sempre ha caratterizzato l'attività dell'archivio. Ma oltre a questi aspetti della digitalizzazione, partendo proprio dalla digitalizzazione, noi siamo andati oltre il progetto iniziale. Impronte digitali è stato certamente un punto di svolta nel modo di usare il nostro patrimonio. Oltre alla custodia, la conservazione, la valorizzazione, che sono già aspetti assai importanti e che hanno visto l'impegno dell'archivio nei primi decenni, in questi ultimi anni si è dato vita, come ho detto, alla digitalizzazione vera e propria. E poi ci sono stati, grazie a questa digitalizzazione, ci piace chiamarle effetti collaterali del progetto. E il punto focale di questi effetti collaterali è stata la creazione del piccolo museo del diario. Il piccolo museo del diario è stato concepito con i criteri del museo di narrazione, un luogo in cui la persona viene chiamata ad assumere un ruolo attivo e non più meramente passivo, come è sempre avvenuto nella fruizione di tradizionali musei di collezioni e esposizioni. L'itinerario del piccolo museo del diario, ideato e realizzato dallo studio di progettazione e design dot dot dot, è in continua evoluzione, ma sempre più è uno spazio vivo e interattivo. A questo punto dovrei limitarmi solo a invitare la commissione a venire a Pieve Santo Stefano, perché è difficile raccontare questo museo. Posso solo dire velocemente... Troppo, professore, abbiamo i colleghi dell'altra commissione che devono raggiungerci e io vorrei lasciare la possibilità di un intervento agli ultimi ospiti. Va bene. Allora, dico soltanto che questo museo interattivo è ogni giorno visitato da scolaresche, da turisti, sarebbe da fare tutto un discorso di un progetto memory route legato al turismo della Valtiberina, che è molto importante, che escono da quelle stanze particolarmente toccate dalle testimonianze di cui parlavo. ma nello stesso tempo con una maggiore cognizione su cosa vuol dire oggi memoria. Vi ringrazio. Grazie al professor Brezzi. Andremo, se possibile, a vedere questo archivio. Credo che alcuni di noi già l'abbiano fatto.